parlo di questa ma naturalmente come se parlassi della mia sento la grandissima differenza il grandissimo gap che c'è fra il 208 turbo intercooler in questo caso perché un'ultima serie e il 308 io sono una delle persone che preferisce che predilige scusate il motore aspirato anche se comunque agli alti regimi questa va di più perché vi manca quella quella spinta in basso data chiaramente dal turbo leg e dal fatto che questa è un 2000 di cilindrata contro il fatto dell'altra che è un 3000 esistono del 208 della famiglia del 208 ci sono tre modelli la primissima che era parliamo della prima serie quindi non con questa carrozzeria molto simile ma non con questa carrozzeria che il 208 gtb gtb e chiusa gts aperta comunque quella lì era un gtb ed era accreditata di 150 155 cavalli una cosa del genere ed era un 2000 aspirato otto cilindri non è sicuramente una ferrari sì una macchina rara perché ne hanno vendute poche però vi trovate una bella alfetta a quadrifoglio oro non vi dico che vi sta davanti ma quasi quindi dovete se dovete sempre considerare che le prestazioni di quell'auto non erano il suo forte il motore era buono però le non erano il suo forte arriva al motore turbo quindi sempre con la carrozzeria del prima serie 208 turbo senza intercooler 220 cavalli la potenza cresce a dismisura perché parliamo di 65 cavalli di differenza circa e naturalmente cambia molto anche l'erogazione è penalizzata dal fatto dell'intercooler quindi le macchine le autovetture una volta adesso non esistono più ma una volta esisteva la variante delle auto senza intercooler e oltre che avere qualche cavallo in meno quel qualche cavallo in meno rischiano di diventare molti molti meno nel momento in cui si scalda l'aria perché più si scalda l'aria e più naturalmente cambiano anche la dimensione dell'aria e qui ve la sto parlando in linguaggio molto semplice quindi la resa del motore può cambiare drasticamente più la temperatura esterna si è alta e più la temperatura del motore si alza quindi naturalmente l'aria diventa più rarefatta ecco invece le auto con l'intercooler anche se posizionate in una maniera magari non felicissima però era l'unico che potevano metterlo quindi sopra le testate come questa